la mangiare anch'io ma fate cagare non si mangia quando si fa picchi guili ah ma qua ci sono in mezzo a stecca puoi vivi in passaggio con la moto? no 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 vai vai ah ok eh qua secondo me spacca i culi leli invece fred vieni in squadra ma mi ricompiare ma fuori di testa ci sono un pochino mi chiamato il sangue la testa non c'è niente anche la stascia scemo di merda che non sa guidare leli occhio casparo bello il portapomba ecco il kit medico per te prendo i minchiai in un attimo ma leli da trasporto eh si il deficiente dei nostri l'ha fatto avanzatelo ragazzi l'ha fatto andare in deadzone l'imbecille ma che cazzo è c'è qualcuno che vuol venire sulle di trasporto io io sto seguendo il povero cristo della bomba no non è pieno no non è pieno eh ma non posso spawnare su di te ok appena lo prendo ah ok ah quando lo prendo no no minchiai che fine del cazzo abbiamo scolato la bomba manco per il cazzo che cazzo è successo stai schiacciando il per plantare ma è passato a code prima death me l'ha fatto a capito però schiacci se siamo qua che è un admin kiwi cicchino cicchino peter ma madonna ho visto qualcosa esplodere malamente da morto io sono esploso malamente credo che quegli idioti sono riusciti a fottersi il c'è fottuto l'heli così madonna mcgyver di merda mcgyver è un attimo bello guardateli là occhio sflock minchiai 20 ma com'è sostanza guarda quello con il 320 che cazzo di fine che fa ha morto semplice bravo l'hai strozzata con i tuoi manoni minchiai no con le zampe d'elefante come quello di oggi sulla sedia gli artigli d'elefante famosissimi famosissimi elefanti denti a sciabola 16 minuti complimenti agli admin 16 minuti di obliteration ah 16? 16 sì 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 dei fenomeni orca troppo orca perfetto non sbona perfetto vai vado a plantare subito su su b ragazzi su b levate 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 è qua easy ne uno alla destra di voi ma cosa? la destra è pieno altro che rusho rusho però copritemi tranquillo tranquillo sono dietro messo allontanatemi il più possibile minchia e ci sono a 30 metri io ho 20 spero che non mi prenda la legge di esplosione ma cosa? vabbè ma non è possibile che mi spawnino in me cosa cazzo? ma ha fatto danno a 20 metri mi ha fatto ma come è possibile che mi siano spawnati così vicino a caso? a caso? perché questa qui è la zona dello spawn c'è il coso che ti paracaduti niente sono un idiotaio ma come è su peggio ex? ma sei spussato di là Luca l'abbè minacciata nooo non ci credo vabbè lui squadra insieme ah si vabbè con la k anche Luca ma siamo anche 12 contro 15 cioè vieno allora votare per il market rush per la market chain link fruitzone domination propaganda cts dai non lo facciamo da non tanto propaganda propaganda che dite? gli posso dire admin mi potete spostare con i miei amici o sapete solo chiccare? glielo dico no dai no dai che devi semplici sì sì ok non ci vuol essere già sparato in sud ma non sono precisamente chiccare admin ho la bomba ragazzi user join your channel user 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 qua riavevo ancora il microfono mutato abbiamo bisogno di te Sol ho la bomba ragazzi ma ce lo sfonco addentro non stiamo dentro gol vorrei dire abbiamo bisogno di te Paul da oggi chiamatemi Paolo ah sentita no grazie Sol gentilissimo anche senza postretto a giocare contro e perdere cazzo pensa che tutta la sera no dai assistenza 93 ma restatemi che ha preso la bomba non fanno un alleato random pensavo fossi tu ah che cazzo avete visto la risposta che mi ha dato no vai ha bilanciato anche per me poco prima di finire la partita disbalance sii che doppietta no no real pig trader quello che ha scritto nope punto l'ho ucciso Peter con l'M40 attra